Oh, e questo è tutto ricoperto di glitter! Fantastico! Non posso crederci! Questa è una tiara! Splendido! Itzy! Oh, finalmente ti abbiamo trovata! Oh, complimenti! Aspetta, stavate cercando me? Dovete proprio dare un'occhiata a questo negozio di oggetti di scena. È come se qualcuno fosse entrato nei miei sogni e poi, spada-pam, li avesse trasformati in un negozio! Ora non c'è tempo. Dobbiamo raggiungere il teatro di Zephyrides e trovare le altre. Itzy ha ragione. Dobbiamo andare. Ehi, ma che succede? È successa una cosa con Sparky, poi è arrivata una lettera, poi i poni fluttuanti e... una storia lunga. Sembra divertente! Andiamo! Itzy, aspetta! Lasci qui tutte le tue cose. Eh? Oh, queste non sono mie. Na 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 na!